ah siete qua salve oggi volevo parlare del mio google home mini ciao benvenuti o bentornati nel suo canale come si fa lui è salvo oggi vi parlo di me google home mini e di chromecast si mandò subito prima la nostra sigla sigla bene oggi vediamo un unboxing doppia dei nostri due prodotti google home mini e chromecast guardando la scatola del google home mini è fatta abbastanza bene incominciamo ad aprire la scatola ci muoviamo del nostro taglierino dobbiamo tirare questa linguetta all'interno è molto rifinita la scatola questo è il nostro google home mini bellissimo e di tessuto sopra plastica laterale è una gomma arancione antiscivolo dentro la scatola abbiamo dei manuali è un trasformatorino molto elegante ci saranno qui un due metri di cavo ok ora apriamo il nostro chromecast allora la scatola è fatta bene anche molto accattivante questa scatola è fatta veramente bene apriamo anche questo apriamo veramente bello questo è il chromecast queste sono delle spiegazioni abbiamo un trasformatorino veramente bello pure lui e questo è l'informazione sul prodotto non c'è più niente questo è il piccolo chromecast questo si collega all'hdma e c'è questo piccolo magnete questa è l'entrata dell'alimentatore non fa altro che collegarlo dietro alla televisione e collegare i nostri dispositivi che poi vedremo più avanti il nostro assistente il nostro google mini ci servirà ad ampliare la nostra casa in domotica tutto quello che abbiamo visto con i sonoff e vi farò vedere altre apparecchiature vi farò vedere le funzioni di questo apparecchietto qui ok ok a questo punto andiamo a vedere il primo collegamento prendiamo il nostro alimentatore e andiamo a alimentare il nostro google si accendono i led musichetta ti chiamo il benvenuto in google home per iniziare scarica l'app google home sul telefono o tablet una voce molto robotica dice di installare un'applicazione si chiama home io già l'ho scaricato sull'app store andiamo a cercare ovviamente dovete essere collegati sul vostro wifi ok dice già un dispositivo un dispositivo trovato andiamo a vedere abbiamo trovato questo dispositivo configura vuoi configurare questo dispositivo? e mi sa proprio che dobbiamo configurarlo sì dobbiamo aspettare qualche secondo si collega durante la configurazione il telefono o il tablet potrebbero disconnettersi dalla rete wifi hai sentito il suono? sì l'abbiamo sentito contribuisce va bene dai ok dove si trova il tuo dispositivo? mettiamo soggiorno se frega andiamo allora collega il wifi collegato avanti una questa rete wifi per configurare yes e si configura andiamo avanti dobbiamo insegnare e far riconoscere la voce al nostro dispositivo accettiamo ok google ok google ehi google ehi google sta configurando si accendono i due led vediamo sempre accetta spotify aggiungi servizi andiamo avanti per ora andiamo avanti il dispositivo soggiorno è pronto ci sei? google ah ci sei? ehi google metti un po' di musica sembra che tu non abbia indicato nessuna piattaforma come preferita per ascoltare musica per farlo vai all'app google home si sente abbastanza bene ottimo ottimo praticamente questo dispositivo è anche touch possiamo aumentare e diminuire il volume ehi google chi sono io? salvo russo ehi google come si fa la pasta alla carbonara? non sono sicuro della risposta ecco cosa ho trovato sul web in base al sito web misia.info come fare gli spaghetti alla carbonara in una padella ampia fate rosolare il guanciale a fiamma bassa fino a renderlo trasparente rompete le uova in una terrina aggiungite i tre quarti del pecorino trattugiato il sa stop non c'è nulla in riproduzioni al momento ok google lista della serie A oggi il verona giocherà col milan alle 18 il bologna giocherà con juventus fc alle 20 e 45 la partita dell'Inter contro l'Udinese sarà domani a mezzogiorno e mezzo per altre partite prova a chiedere di una squadra in particolare questo dispositivo è particolarmente forte il suo fratello maggiore è molto bello sì però preferisco questo qui che è più piccolino e si può mettere da qualsiasi parte lui risponde a tutto quello che noi diciamo in questo momento non ho scenari da farvi vedere perché abbiamo fatto l'installazione in questo momento farò nei prossimi video degli scenari ok ora andiamo a vedere la nostra Chromecast l'installazione va bene? ok google? ok google? saluta ciao salvo russo ok prima cosa Chromecast inseriamo la spinetta del Chromecast l'HDMA nella prima presa che troviamo dietro la nostra televisione e andiamo a collegare il nostro alimentatore ok si avvia il nostro Chromecast configuriamo Chromecast apriamo il nostro dispositivo il nostro telefono e andiamo su configura ci dice che Chromecast è stato rilevato vuoi configurare il dispositivo? sì allora stiamo configurando il nostro dispositivo ok allora vedi il codice sullo schermo della tua tv? sì il codice M9TA ok sì è lui sì perfetto contribuisce a migliorare? e va bene sì dove si trova il tuo dispositivo? soggiorno fine avanti siamo online siamo online aggiornamento obbligatorio dobbiamo aspettare l'aggiornamento aspettiamo che finisce di aggiornare dopo circa meno di un minuto si aggiorna si riavvia si installa il software un minuto e circa e si riavvia di nuovo 1920x1800 simbolo di Google ok pronto per la trasmissione guarda i contenuti sullo schermo del broadcast pulsante trasmetti dare il video qualsiasi andiamo avanti con il nostro smartphone tieniti aggiornato ecco ok aggiornamento un cast un corso 3-4 minuti ok a questo punto siamo sul nostro youtube andiamo sulla mia pagina a questo punto siamo andati sulla mia pagina sul mio canale vediamo che stiamo registrando la cosa bella è che possiamo completamente chiudere l'app e lui continua a far vedere i video questo è il mio canale e possiamo anche uscire e lasciarlo con queste immagini praticamente lui girerà sempre immagini bene ok abbiamo visto ok abbiamo visto L è una box di Google Home Mini e di Chromecast se vi è piaciuto questo video iscrivetevi lasciate un like registratevi al mio sito ciao e al prossimo video ciao salvo mi sa che mi vuole levare il mestiere ok Google ciao Google stammi bene grazie a tutti